Mi chiamo Valentina Carnelutti, leggerò La Porta Invisibile, un racconto di Martina Stipi. C'era una volta una bambina di nome G.B.A. che viveva in un piccolo villaggio dell'Africa centrale. Il villaggio per lei era il centro dell'universo. Ogni cosa aveva il suo ritmo, ogni cosa aveva il suo linguaggio. Da sempre e per sempre. Lei era l'unica figlia del vecchio guaritore. Il suono della zucca chiamava gli spiriti e la faceva danzare. G.B.A. dagli occhi neri, G.B.A. la seria, così la chiamavano al villaggio. Aveva uno sguardo tanto profondo che se ci cascavi dentro non ne uscivi più. Era uno sguardo speciale, tutto suo, scuro e luminoso insieme. Ogni giorno G.B.A. andava al fiume con il vaso di terra rossa sulla testa per raccogliere l'acqua che serviva al papà. Percorreva una stradina che a lei pareva tanto gentile perché ogni giorno l'aspettava per portarla al fiume, il grande fiume. Quante storie aveva sentito su di lui. Quanti riti aveva visto compiere per lui. G.B.A. lo amava come un amico caro. Dal fiume dipendeva la vita di tutti. Lui nutriva, dissetava, si faceva solcare e attraversare. Ma guai a farlo arrabbiare. G.B.A. lo sapeva. Un giorno aveva visto il grande fiume arrabbiato. Si muoveva con una forza terribile, mangiandosi le piccole barchette che sparivano nelle profondità, facendo glup glup. Da allora prima di prendere l'acqua gli chiedeva il permesso e poi lo ringraziava sempre. Era il vecchio guaritore, suo padre, che le aveva insegnato i segreti della natura. G.B.A. non era mai andata a scuola ma di cose ne sapeva molte. Conosceva le stelle, il vento buono e quello cattivo, il linguaggio degli animali e quello delle piante. Una cosa in particolare aveva imparato molto bene. La strada che la luna percorre in cielo e le sue fasi. Questo era tanto importante per la vita del villaggio, perché dalle fasi della luna dipendeva ogni decisione, ogni azione. La semina, la raccolta, la nascita, la morte. La luna a volte si mostrava tutta tonda, come la pancia della mamma che aspetta di far nascere il suo bambino. Altre volte era sottile, come un grande sorriso luminoso. A volte poteva sparire anche per giorni e giorni. Ma quando la luna era piena, G.B.A. negli ultimi mesi era sempre molto preoccupata. Si era accorta che il papà cambiava, diventava assente. Stava in silenzio, sdraiato nella capanna per interminabili ore. G.B.A. aveva tanta paura. Una notte il padre la chiamò vicino a sé e le disse «Figlia mia, vedi come sono vecchio e debole. Ti devi preparare. Non vivrò ancora a lungo. Ho iniziato a sentire il mal della luna. Lei mi chiama a sé». G.B.A. non capì. G.B.A. non volle capire e mise un muso lungo che durò per giorni. Quando il papà le si avvicinava, lei scappava, correva forte fino al fiume perché sentiva male nel cuore, come una ferita invisibile e non voleva piangere davanti a lui. Il guaritore non sapeva come fare per aiutare la sua bambina. Conosceva i segni della vita e della morte. Sapeva che il tempo sulla terra per lui non sarebbe stato ancora lungo, ma con le parole e con gli abbracci non era così bravo. Il vecchio guaritore decise di chiedere aiuto allo spirito del fiume. Si chiamava Kumba. Aveva l'aspetto di donna e molto raramente si mostrava agli umani. L'uomo nella sua vita l'aveva vista una sola volta. Alla nascita di G.B.A. era apparsa per rivelare l'appartenenza della bambina al regno della dea Oshun, la dea delle acque dolci. Poi mai più. Il guaritore per anni si era domandato se lo spirito vivesse ancora nel fiume, ma quella notte, mentre le stelle cadevano in cielo intorno alla luna sorriso, il guaritore si trovava sulla riva del fiume a pregare, quando all'improvviso lei apparve, maestosa e impressionante, accompagnata dal suono di zucche e campanellini. Uscì dalle acque, aveva la pelle scura e lunghissimi capelli rossi che si muovevano come tanti serpenti nella notte. Che la pace sia con te, disse Kumba facendo emozionare il guaritore che spalancò gli occhi come due biglie giganti. Che la pace sia con te, Kumba, rispose il guaritore con voce fiera. Mi hai cercata uomo, chiese Kumba. Sì, disse il guaritore, ho bisogno di te. E così il guaritore spiegò a Kumba che aveva il mal della luna ed era tempo per lui di tornare nella casa celeste, ma che non sapeva come fare con la sua bambina ancora tanto piccola. Kumba ascoltò il vecchio con gli occhi chiusi, mentre un vento delicato muoveva le foglie dei grandi alberi. Restò a lungo, in silenzio. Quando Kumba aprì gli occhi, il guaritore notò che erano enormi, liquidi, simili a pesci blu. Lo spirito del fiume si avvicinò all'uomo. Fissandolo intensamente gli mise una mano sulla testa e disse, tua figlia, ogni giorno è venuta al fiume, ogni giorno mi ha parlato. Lei sa che la morte non è che un nuovo viaggio, ma devi aiutarla perché ti ama molto, ha paura. Parlale, dolcemente, tienila tra le tue braccia e raccontale della porta invisibile. Io vi sosterrò, vedrai che tutto andrà bene. Dette queste parole, Kumba sparì nell'acqua. Il guaritore rimase lì tutta la notte, senza dormire, in ascolto dei suoi pensieri. La mattina vide un'alba meravigliosa, l'oro e il rosa tingevano il cielo, l'aria era pulita e profumava di fiori di mango. Si alzò aiutandosi con il bastone di legno intagliato. Camminò piano, ogni passo era un pensiero che lasciava cadere a terra per farlo assorbire dal suolo. Il villaggio era calmo, tutto ancora taceva, solo il gallo cantava, felice. Arrivò alla capanna con il cuore più leggero. G.P.A. dormiva. Il guaritore le restò accanto, a lungo, tentando di assorbire tutto di lei. Le sue piccole mani chiuse a pugno, le treccine nei capelli, il profumo di burro di karité. Poi la prese in braccio e G.P.A. si svegliò, stupita in un caldo abbraccio. Bambina mia, le disse, buongiorno. Oggi è un bel giorno. L'abbracciò forte, poi le disse di lavarsi e vestirsi, che voleva portarla in un luogo speciale. Quante emozioni si sparpagliarono festose nel cuore di G.P.A. Il papà le voleva bene. Il papà non sarebbe più partito. La bambina saltellando felice si preparò con grande velocità. Poi per la prima volta osò dare la mano al papà per seguirlo nel luogo misterioso. G.P.A. si sentiva così fiera, così orgogliosa, che camminava tutta impettita stringendo con forza la mano del papà. Il guaritore la condusse lungo un sentiero pieno di cespugli e uccelli azzurri. Non era mai arrivata così lontano. Non l'era permesso. Tutto intorno vide, a perdita d'occhio, morbide collinette verdi. Il mondo le apparve vasto e meraviglioso, mentre dentro si sentiva forte, al sicuro, vicino al papà. Arrivarono sulla sommità di una collina, dove sotto un baobab centenario si trovava un antico circolo di pietre rosse. Il padre fece sedere la bambina per terra tra le pietre. Poi iniziò a roteare il bastone in cielo. Vedi? Le disse. Lassù, in cielo, c'è una porta invisibile. È esattamente sopra queste pietre. I nostri antenati, tanti, ma tanti secoli fa, costruirono questo cerchio per potersi mettere meglio in contatto con lei. Qui si viene a pregare, da sempre. La porta è un passaggio tra la dimensione celeste e quella terrestre. Quando nasce un bambino, la sua anima deve passare da lì per arrivare sulla terra. E lo stesso accade quando qualcuno muore. L'anima passa da lì per andare in un altro luogo, diverso a seconda del livello raggiunto dalla sua anima. È proprio come la porta della nostra capanna. Finché non la si apre non si sa cosa aspettarsi. La morte è come il volo di un uccello, GBA. Tu hai paura solo perché non la conosci. Io sono sereno. La luna da mesi mi parla. L'unico mio pensiero ora sei tu. GBA si fece seria. Il cuore le batteva forte in petto. E tutto d'un fiato disse. Papà, ma io ho bisogno di te. Come farò poi se non potrò più parlarti, chiederti consiglio. E il guaritore dolcemente le rispose. Bambina mia, le due dimensioni sono collegate. C'è una chiave che apre quella porta. GBA pensava tra sé e sé. Una chiave? Com'è possibile? Io non ce l'ho. E i suoi occhi profondi diventavano sempre più bui. Il padre se ne accorse, lesse il suo cuore e le disse. Tutte hanno la chiave per aprirla. Anche la chiave è invisibile. Come la porta? Ma la puoi usare quando vuoi. Si trova proprio nel luogo in cui senti tanto male. Nel tuo cuore. Dentro al cuore c'è una nicchia dove rimane sempre accesa una luce. Al nur. La luce divina. Lì la troverai. La bambina si sentiva confusa. Anche lei aveva la chiave. Non lo sapeva. E poi il papà le parlava in modo così misterioso. E il guaritore continuò. Quando volerò nell'altra dimensione, tu dovrai seguire il tuo di destino, GBA. Tu diventerai una sacerdotessa della Deo Shun, come è stato predetto alla tua nascita. Non sarai mai sola. Lo spirito del fiume ti aspetta. Io verrò da te quando vorrai. Basterà aprire la porta e chiamarmi. Può darsi che venga mentre dormi, nei sogni o attraverso la voce di qualcuno. O potrai sentirmi nei cespugli o nel fuoco. Basta starei in ascolto. Tuo padre non ti ha mai mentito, GBA. Sì, certa che verrò sempre. Lo sguardo di GBA tutto ad un tratto si rischiarò. Finalmente aveva compreso. Il cuore scaldandosi d'amore la illuminò rendendola radiosa. E la paura uscì dalla bambina, scappando a gambe levate. Sì! Grazie a tutti.